Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il caso degli studenti manganellati durante i cortei per la Palestina a Pisa e a Firenze, un caso che ha infiammato letteralmente il dibattito all'interno dell'Aula di Palazzo del Pegaso. I toni si sono accesi e molto. Vediamo. Avranno pure preso degli sputi, ma forse se li sono anche meritati. Le parole della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi hanno incendiato il dibattito nell'Aula di Palazzo del Pegaso sul caso degli studenti manganellati dai poliziotti a Pisa e a Firenze lo scorso 23 di febbraio durante le manifestazioni pro-Palestina. L'Assemblea Toscana, al termine di un'infuocata seduta, ha approvato a maggioranza una mozione sottoscritta dai capigruppo di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, che esprime ferma condanna per quanto accaduto impegnando la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero dell'Interno per fare chiarezza in tempi rapidi. Respinta invece dall'Aula la mozione presentata dall'intero centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che puntava ad impegnare la Giunta a riaffermare che il fondamento della democrazia è prima di tutto il rispetto delle regole per tutti gli attori della vita pubblica e a ribadire il diritto a manifestare le proprie idee per tutti all'interno di una cornice di legalità. Noi vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore, senza eccessi, per tutelare la salute dei cittadini, la democrazia, la libertà di manifestare. Purtroppo quello che abbiamo visto invece in piazza a Pisa e anche a Firenze non apparteneva a questa categoria, ma ci sono stati degli eccessi che sono stati oggetto di critica in primis del Presidente della Repubblica delle cui parole noi sottoscriviamo. I manganelli sono il fallimento probabilmente delle istituzioni, dei rettori della comunità cattolica, dello stesso sindaco di Pisa che ha sottolineato come quella città era ed è abituata a vedere altre cose. Dopo i fatti di Pisa va detto che in questo paese, ma in tutti i paesi civili, chiunque ha diritto di manifestare il proprio pensiero, finché questo non travalica ovviamente la legge e il rispetto del prossimo. Chi parla in vita sua ha organizzato decine di manifestazioni, ha partecipato a decine di manifestazioni e mi fa sorridere quando sento dire che in questo paese non esiste il dissenso. In questo paese il dissenso esiste, è garantito e fa sorridere che chi dice che in questo paese non esiste il dissenso sono gli stessi che non hanno sprecato mezza parola per condannare invece chi manifesta prendendo un fantoccio con le sembianze del Presidente del Consiglio impiccandolo a testa lì in giù e dandogli fuoco. Quello non è manifestare in maniera corretta. Quindi io mi auspicavo che oggi il Consiglio regionale dicesse questo, che tutti hanno diritto di manifestare, che tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi, anche chi manifesta, che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, cosa che sicuramente la polizia farà, che un manifestante che sputa in faccia un poliziotto non è un manifestante pacifico e è lì per manifestare la propria idea. È un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze. La Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare, la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli. Un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo, prende distanza e chiede chiarezza. La Toscana è un'altra cosa, la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali i ragazzi della nostra Regione hanno diritto e dovere di manifestare, di esprimere le proprie idee. Bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione, dispiace, perché magari si poteva creare un atto unitario, invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile, difendere quanto è successo. Non compete, diciamo, alle forze politiche da parte nostra, va anche la solidarietà, ovviamente, alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente e quotidianamente svolgono, ma questo che è successo in Toscana il 23 febbraio è un errore grave, come tale andava denunciato e come tale andava condannato e preso la distanza da parte della Toscana. Secondo l'opposizione, le condizioni per trovare una sintesi e quindi proporre un atto comune sui gravi fatti accaduti a Pisa e Firenze ci sarebbe stata. Le proposte sono state due, in effetti, respinte tutte e due dal PD, quindi continua questa volontà di strumentalizzare questi fatti da parte del Partito Democratico e della maggioranza in Consiglio regionale, così come purtroppo vediamo tante notizie non vere in dichiarazioni fatte dai nostri colleghi della maggioranza. Le proposte erano due. La prima di trovare un atto comune, quindi una sintesi, nei prossimi giorni, aspettando domani le dichiarazioni del Ministro Piantedosi che farà in Aula alla Camera per capire anche quali fatti nuovi possono emergere da queste dichiarazioni e c'è stata respinta. La seconda, alla fine, è stata quella di fare un atto molto semplice dove insieme si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del Presidente Mattarella e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni, che sono stati picchiati e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di quello che dovrebbe essere l'azione di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizio e a soluzioni semplici. Io ritengo invece che proprio per garantire massimamente le forze dell'ordine a cui va tutta la nostra stima e il nostro rispetto per il lavoro che fanno ma per tutelare anche il diritto a manifestare la serenità dei nostri ragazzi e delle persone si debba immediatamente fare chiarezza per far sì per assicurarci che questo sia un caso isolato che chi ha delle responsabilità chiunque esso sia all'interno della catena di comando o nel teatro delle operazioni paghi per quello che ha fatto perché non è ammissibile che possa far parte della società civile o perlomeno continuare a espletare quelle che sono le loro funzioni perché diversamente da come ha detto un ero parlamentare pisana non c'è necessità di autorizzazione per una manifestazione perché la manifestazione secondo l'articolo 17 della nostra Costituzione è libera e soltanto nell'epoca del fascismo c'era bisogno di un'autorizzazione questo teniamolo presente perché rischiano di cadere le basi della nostra Costituzione e del nostro vivere civile in Consiglio regionale è stato affrontato anche un altro argomento che nell'ultimo periodo è all'ordine del giorno nei casi di cronaca purtroppo quello della violenza di genere con una proposta di legge che è stata approvata a maggioranza dall'Aula la Toscana dovrà promuovere interventi per la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza di genere per far cessare i comportamenti violenti limitare la recidiva e ricondurre le relazioni in condizioni di parità e rispetto lo prevede la legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale con i voti a favore di PD Italia Viva e Fratelli d'Italia e la stensione di Lega e Movimento 5 Stelle l'atto prevede che siano istituiti l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e l'elenco dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale il test interviene anche sulla formazione prevedendo che la regione e le province promuovano iniziative e moduli formativi la convergenza tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta un gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche della commissione pari opportunità e del comitato regionale contro la violenza di genere ha portato all'approvazione appunto di una modifica normativa su questi due aspetti e dall'altro su un ordine del giorno altrettanto importante in modo di vedere laddove si va a determinare ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 e si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un buon lavoro un buon lavoro evidentemente rispetto a un tema che purtroppo lo vediamo anche nei fatti di cronaca di queste ore non smette di avere i numeri e le caratteristiche di una vera e propria emergenza io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie quindi sul tema della violenza ecco noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente reeducativa ripeto magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati oltre a una finalità di prevenzione importante naturalmente sarà il monitoraggio perché una legge regionale che comunque ha trovato anche un consenso in aula è chiaro che deve avere anche un'attenta valutazione rispetto all'efficacia oggi in Toscana ci sono dei centri di violenza che accolgono diciamo le donne vittime di violenza che sono delle vere e proprie eccellenze persone competenti operatori che supportano anche le tante storie delicate di donne che arrivano magari con bambini che hanno subito violenza domestica sono numeri importanti in Toscana quindi a dimostrazione che questo è un fenomeno su cui non occorre anzi non dobbiamo assolutamente abbassare l'attenzione il concetto il pensiero è sicuramente importante noi siamo sostanzialmente d'accordo non nelle forme in cui è stato proposto perché ci siamo astenuti ci eravamo astenuti in commissione valutandone volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento la legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente o meglio è migliorabile ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno perché sostanzialmente non dice molto l'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo però era fin troppo specifico nella narrativa cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio c'era già bullismo e era giusto sessismo e era giusto rispetto della persona e era giusto ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione per cui ci siamo astenuti purtroppo è un problema che sta crescendo è cresciuto a dismisura durante la fase del covid e nel periodo immediatamente successivo non passa praticamente il giorno che le cronache non riportino se non un femminicidio o comunque attacchi violenti nei confronti delle donne è importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a riappropriarsi la propria vita che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena di riappropriarsi della propria vita e quindi di guardare con fiducia al domani è altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti gli uomini sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la Regione io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari perché bisogna crescere la cultura del rispetto non bisogna arrivare al punto di dover rieducarsi questi dunque gli studenti manganellati a Pisa e Firenze e il tema della violenza di genere e gli argomenti principali di questa puntata della Voce del Consiglio l'appuntamento come sempre per la prossima settimana ovviamente su RTV38 grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci a presto a presto